I consiglieri PD in regione nella sede di Pescara, Paolucci e Blasioli hanno parlato della situazione dei sanitari impegnati nella pandemia con un duro attacco nei confronti della giunta Marsiglio. Nonostante le proteste e il sacrificio degli operatori sanitari hanno detto, il governatore Marsiglio e la sua giunta sembrano disinteressarsi del personale che ha garantito la salute di tutti anche al rischio della propria incolumità. Il governo Marsiglio continua a contraddistinguersi per propaganda e chiacchiere da un lato e zero fatti dall'altro, oltre alla mancanza per esempio degli atti relativi al fabbisogno, nonostante ci siano necessari enormi assunzioni, migliaia di operatori per quanto riguarda il comparto, continuano a non programmare e quindi a non poter far accedere a stabilizzazioni e internalizzazioni e a nuove assunzioni da un lato. Dall'altro addirittura respingono una mozione approvata da tutti i consigli regionali per gli adeguamenti contrattuali. Nell'unica occasione che c'è stata quella dell'ultimo consiglio regionale del 3 di maggio in cui Marsiglio, Laveri e gli altri componenti della maggioranza avrebbero potuto testimoniare la vicinanza al mondo infermieristico e delle professioni sanitarie, hanno votato contro una nostra risoluzione. Una risoluzione che però è stata presentata in tutti i consigli regionali d'Italia in fotocopia, in maniera uguale, anche da forze della Lega. Altrove l'hanno approvato, parliamo per esempio della Lombardia, del Veneto eccetera, in Abruzzo hanno votato contro e per di più lo hanno fatto senza esprimere nessuna motivazione a sostegno della loro idea. Chiedevamo che gli stipendi degli infermieri dopo questo Covid fosse adeguato, la Fondazione Jim Belob, se ci dicono che in Italia sono terzultimi in tutta Europa per quanto riguarda le loro retribuzioni, chiedevamo che fosse accelerata la stabilizzazione di tantissimi operatori che ci hanno aiutati in questi due anni ad uscire da questa pandemia. Rispetto a questi impegni da portare nella conferenza Regione, Stato e Provincia Autonome, la maggioranza di centrodestra ha votato contro.